E un ex puttanazza prostituta palermitana e questa si fididica becchia baldracca della trinacra e oltre al muro se fatelo volu' LE RARA ASCIA Yes, Hollywood! A-DU-DU-DU! E un ex puttanazza prostituta palermitano e questa si fididica becchia baldracca della trinacra e oltre al muro se fatelo volu' LE RARA ASCIA Yes, Hollywood, A-DU-DU-DU-DU! Frank Cooper! Abduka du la! Abragababa da! E-Chi che esci! Con dei muli e degli assegnari b- Asposto del cervello, c'avete le vongole vereci, c'avete, ignorate? C'è anche truppe, abduca d'ulà, abbracababada, e questi chicchessere, eh? Con dei muli e degli assegnari. Asposto del cervello, c'avete le vongole vereci, c'avete, ignorate? Era una torta di mare, questo me lo ricordo perché metto le vongole vereci sopra la torta, una novità, le vongole di marmo, 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 no, di mare, marmo, mare e marmo, vanno insieme, sai con le costi, compagno è pieno, vanno mare e mare e mettono le vongole vereci, la limone, ecci tua maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casio maledetto che io non la volevo la torta, non la voglio, non la voglio, a me che sono entrato qua. E tutti i pesci che tornero a galla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti clienti sono entrati, che erano tutti i clienti ricchiori, e c'era pure il proprietario che era ricchiori, ma il più ricchiorito era tuo marito, ricchiorito delinquente, sì perché siamo da quattro ore a parlare di mangiare di canalezza e di pollo e di cosce nell'are dei motori, e io c'ho pepe!